Il trend del mercato degli eventi è sempre più positivo. Lo rivela l'OICE, l'Osservatorio Italiano dei Congressi e degli Eventi, che ha realizzato un report nel 2017 contattando più di 5.500 sedi congressuali distribuite su tutto il territorio nazionale. I dati sono piuttosto incoraggianti. Infatti, il mercato degli eventi ha segnato un più 2,1% e dunque un fatturato che supera gli 800 milioni di euro. Un trend positivo che tende sempre più ad aumentare e che tende ad arrivare nell'immediato futuro a un miliardo di euro di fatturato. Gli eventi sono soprattutto concentrati nel Nord Italia, dove si è nel 2017 realizzato il 56,7% delle iniziative. Il Nord è seguito dal Centro, dove viene realizzato il 26,1% di iniziative e purtroppo fanalino di coda ancora il Sud e le Isole Maggiori, dove si realizza il 17,2% delle iniziative. Gli eventi hanno un carattere ancora prettamente locale, nel senso che se viene realizzato un seminario, questo tende a coinvolgere partecipanti, utenze territoriali del luogo o al massimo della regione. Vi è una leggerissima impennata per gli eventi nazionali, invece gli eventi internazionali subiscono una grossa inflessione, molto probabilmente per questione di budget, perché chiaramente un evento di caratura estera richiede dei budget superiori, ma anche, sembra, per motivi di natura organizzativa. All'Italia si richiede una presenza più capillare e più organizzata dei convention bureau. Guardiamo adesso gli enti promotori. Le associazioni sono state da sempre quelle che hanno spinto maggiormente sulla macchina organizzativa degli eventi e ancora una volta sembrano mantenere questo primato. Le istituzioni pubbliche, invece, hanno rallentato l'organizzazione degli eventi. Quando parliamo di istituzione pubblica e di eventi, intendiamo con questa iniziativa di natura governativa, delle convention partitiche e via discorrendo. Invece, l'aspetto più interessante è relativo alle aziende. Le aziende investono sempre di più nella direct communication e negli eventi. Perché? Beh, è abbastanza chiaro. Dalla buona comunicazione non può venire altro che un brand che cresce sempre di più. E le aziende lo hanno ben capito. Inoltre, le aziende sono molto sensibili su dei temi come creatività e professionalità. E questo lo dimostrano soprattutto nel coinvolgimento sempre più radicale dell'utenza. Il target di riferimento di un evento, infatti, secondo l'impresa, deve essere coinvolto. Bisogna che questo faccia esperienza. E poi, le aziende hanno ben compreso che gli eventi sono un ottimo canale per comunicare la loro mission e i loro valori. Infine, le imprese hanno compreso quelli che sono gli aspetti che molto probabilmente saranno protagonisti degli eventi nell'immediato futuro. Innanzitutto, la tecnologia. Tecnologia avanzata e interattiva, proprio per favorire il coinvolgimento dell'utenza. L'idea che l'utenza debba partecipare a un evento standosene seduta comodamente nella propria poltrona è praticamente superata. Si tende piuttosto a coinvolgerlo attivamente. Anche tramite i social media, che è sicuramente un canale oggigiorno di uso comune da parte di chiunque e che viene sfruttato al meglio dall'azienda. Infine, pensiamo anche a internet. L'importanza che questo sempre più ha avuto. I relatori che magari abitano dall'altra parte del pianeta vengono invitati attraverso canali virtuali a partecipare e dunque a dar vita alla propria relazione e dunque al proprio intervento. Con un risparmio dei costi e organizzativi piuttosto notevole. Inoltre, l'evento si fa sempre più green. Si fa moltissima attenzione all'impatto ambientale che un'iniziativa può avere. Dunque, le aziende sono molto attente a questi trend e hanno sviluppato una particolare affezione verso gli eventi come canale comunicativo. Da ciò ne deriva un aspetto molto significativo ed importante. La ricerca, cioè da parte delle imprese, di personale interno specializzato nell'organizzazione degli eventi da aggiungere alla propria divisione comunicazione. Un aspetto dunque molto interessante e che fa riflettere. Vi ringrazio per la vostra attenzione e vi auguro una buona formazione. Grazie. Grazie. Grazie.